E' una tra le professioni più prestigiose, passata attraverso penne e calamaio, macchina da scrivere per approdare ai moderni computer, quella del notaio, il lavoro sognato da molti studenti. Fu Jacopo da Alentini, il cosiddetto notaro per eccellenza, e proprio al magnifico poeta siciliano, consigliere di Federico II, è intitolato il premio istituito nel 2009 dal Comitato Regionale Notarile della Sicilia. Un riconoscimento a chi si è distinto in campo giuridico, economico, sociale e politico, conferito tra gli altri al giurista Antonio Palazzo, al ministro Angelino Alfano e anche a Marina Calderone, presidente del Comitato Unitario delle Professioni. Quest'anno il premio è stato consegnato al notaio nisseno Giuseppe Pilato, che oltre a svolgere la professione dal 1973, è presidente del Consiglio Notarile Riunito di Caltanissette e Gela, ed è stato presidente del Comitato Regionale Notarile per due mandati consecutivi dal 2008 al 2014. Sono particolarmente orgoglioso e contento di aver ricevuto questo premio, anche perché io rappresento un piccolo distretto notarile e avere avuto una gratifica di carattere nazionale dal Comitato Regionale della Sicilia mi riempie di soddisfazione, soprattutto in nome di tutti i colleghi del mio distretto che da sempre hanno collaborato con me. Oltre all'attività tradizionale dei notai, importanti iniziative e novità in campo sociale. Delle novità sostanziali che si concreteranno in una intensificazione del rapporto di consulenza svolta e offerta in maniera assolutamente gratuita alla popolazione su diversi temi. I temi tradizionali che sono quelli dei rapporti con le banche, delle compravendite, della contrazione dei mutui, delle problematiche successorie, ma soprattutto in considerazione delle novità legislative in tema di convivenze civili e di unione di fatto. Noi ci riserviamo proprio nei prossimi giorni di stilare un programma di attività formativa per gli studenti delle scuole superiori, ma voglio rivolgere un invito alla popolazione di rivolgersi tranquillamente ai nostri studi, non solo al mio ma anche a quello dei miei colleghi, perché siamo assolutamente disponibili in maniera totalmente gratuita a fornire tutte le consulenze, le informazioni che loro riterranno di avere in questa materia.